Creative Zen Vision M è il lettore ideale per chi vuole la musica, i film e le foto sempre con sé. Con design alla moda, compatto e versatile, mostra film e foto di qualità brillante e persino le copertine degli album sul suo schermo di alta qualità da 2,5 pollici a 262.000 colori. La batteria ricaricabile offre autonomia fino a 4 ore per il video e 14 ore per la musica. Con la sua capacità da 30 GB, può memorizzare fino a 15.000 canzoni, 120 ore di video o decine di migliaia di foto. Inoltre, include una radio FM registrabile e un registratore con microfono incorporato per gli appunti vocali. È facile da utilizzare grazie al touchpad verticale Zen e agli intuitivi menu a colori. Offre un design curato, arrotondato ed ergonomico, tipico della famiglia Creative Zen. Zen Vision M supporta un'ampia scelta di formati audio e video. Per l'audio, riproduce MP3, WMA con o senza DRM e WAV. Per il video, potete scegliere tra MPEG 1, 2 e 4, DVX, XVID e WMV. Le foto sono supportate in formato JPEG e lo schermo True Resolution permette di importare foto a qualsiasi risoluzione e utilizzare lo zoom multipasso per ingrandire parti dell'immagine. Zen Vision M può essere collegato a qualsiasi TV tramite cavo a via opzionale, per condividere filmati in risoluzione nativa senza alcuna perdita di qualità. Potete anche guardare slideshow fotografici con tanto di colonna sonora. Se vi preoccupate che foto e video personali possano cadere sotto occhi indiscreti, basta attivare la protezione del contenuto tramite password per nasconderli alla vista. La dotazione comprende i software Creative Media Source e Creative Media Explorer per gestire musica, film, foto e dati. Potete anche convertire qualsiasi foto o film in un formato supportato, il tutto con semplicità e facilità. Se preferite, Zen Vision M può funzionare perfettamente anche con Windows Media Player. La confezione offre una dotazione completa, con auricolari, sync cable, cavo USB, custodia e manuale dell'utente. Creative Zen Vision M, la vostra musica, i vostri film, le vostre foto, il vostro Zen.